... Magliette rosse e palloncini sui prati del Talvera a Bolzano per la sesta edizione della Corsa contro la violenza sulle donne. Per tutta la settimana previste iniziative di sensibilizzazione. A Bolzano circa 700 persone hanno accolto stamattina l'invito di WISP e dei servizi che tutelano le donne a correre o camminare insieme contro la violenza di genere. Isabella Cherubini. Facciamo parte di un progetto che lotta contro le discriminazioni e per l'inclusione sociale attraverso lo sport e l'integrazione delle persone straniere. Siamo qua oggi appunto per condividere a prescindere da cultura, religione e teniamo qualsiasi cosa nel significato di questa giornata. Anche i ragazzi di Sport Antenne partecipano alla gara di 5 chilometri che parte e arriva sui prati del Talvera passando per il centro. Corsa vinta per la cronaca da Fabio Iuliano e Maria Curzisova. Tanti altri invece scelgono la camminata di 3 chilometri. Non è solo una festa, è un segnale. L'appoggio, la sensibilità, l'attenzione che l'opinione pubblica sta dedicando a questo tema sicuramente non può che rinforzare le donne nella loro capacità di uscire. E infatti se non diminuiscono gli abusi fisici e psicologici aumentano anche in Alto Adige le donne che superano paura e vergogna e denunciano la guzzino che dice di amarle. Il nostro obiettivo è anche veramente sensibilizzare gli uomini nel momento in cui vedono che attuano dei comportamenti che vanno oltre il vivere civile, di rivolgersi ai servizi, di chiedere aiuto, di riconoscerla, di acquisire consapevolezza, riconoscerla e far qualcosa per bloccare questi comportamenti violenti.